Quanta amarezza, il risultato è questo, la disfatta su tutta la linea. All'indomani dell'elezione dei tre giudici della consulta è il commento del capogruppo azzurro al Senato Paolo Romani che meglio esprime lo stato d'animo di Forza Italia. Il partito di Berlusconi alla fine è stato tagliato completamente fuori dalla partita grazie alla mossa a sorpresa di Renzi che ha preferito stringere l'accordo con il Movimento 5 Stelle che ha portato all'elezione dei tre giudici mancanti. Augusto Barbera, candidato d'EM, Franco Modugno, sostenuto dai grillini e Giulio Prosperetti, indicato da area popolare scelta civica. Forza Italia è invece rimasta con un pugno di mosche in mano, colpa delle divisioni interne al partito di Berlusconi che hanno impedito un sostegno compatto al candidato Francesco Paolo Sisto. Colpa per molti anche del capogruppo alla Camera, Renato Brunetta, che con il suo atteggiamento intransigente e troppo aggressivo contro il Premier, vedi lo scontro in aula Montecitorio di ieri mattina, ha offerto a Renzi il pretesto per lo svoltone, come lo ha definito Pierluigi Bersani, e portare a casa il risultato, così come chiedevano il Quirinale ai presidenti delle Camere. Se ce l'ho con Brunetta, non faccio nomi la situazione sotto gli occhi di tutti. Dico che abbiamo sbagliato strategia, che stiamo sbagliando ancora una volta, commenta Caustico in un'intervista sulla Repubblica Paolo Romani, che rivela di aver dato dello str puntini puntini al Premier per aver approfittato di quello scontro con Brunetta per chiudere in velocità l'accordo con i grillini e far fuori Forza Italia. Non si fa così, non è corretto. Critiche arrivano anche da Silvio Berlusconi. È molto grave che la consulta non abbia su interno nemmeno un giudice che sia del centrodestra, commenta il leader di Forza Italia, che attacca direttamente il Premier. Noi lasciavamo i posti all'opposizione mentre Renzi non lo fa e si appela al capo dello Stato, Mattarella, perché sciolga le Camere, visto che questo governo è illegittimo. Quello sulla consulta con il Movimento 5 Stelle è un accordo istituzionale. Abbiamo letto tre persone di valore. Ci sono stati 31 tentativi falliti con Forza Italia. Noi siamo sempre disponibili a dialogare, ma non possiamo bloccare il Parlamento, commenta Matteo Renzi. Se in Forza Italia crescono malumori e sconcerto per le strategie sbagliate, molti azzurri erano convinti che la mozione di sfiducia dei grillini contro il ministro Boschi avrebbe convinto Renzi a non chiudere l'accordo con i pentastellati, il Movimento ridimensiona il ruolo di Brunetta in tutta la faccenda. Ma quale litigio? Renzi ha dovuto cedere, si sapeva da tempo, ed esulta per il nuovo ingresso nell'area costituzionale. Vince il metodo 5 Stelle, titola Grillo sul suo blog.